Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti. Benvenuto professore. Buongiorno, eccomi qua. Professor Novara, noi ci eravamo lasciati con delle aspettative per il nuovo anno scolastico. Da qualche settimana è iniziato l'anno scolastico e ci dice che queste aspettative hanno rispettato quello che lei prefigeva o c'è qualcosa da migliorare? L'aspettativa era che si tornasse alla normalità, sostanzialmente quello, ossia l'abbandono del distanziamento, l'abbandono ovviamente delle mascherine e tornare a una scuola comunità che sapesse accogliere anche i genitori. Devo dire che in linea di massima queste attese sono state esaudite e quindi anche sulla base del buon esito degli esami sia di maturità che di terza media di giugno e luglio il Ministero è andato avanti e sulla base anche delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità ha detto chiaro e tondo l'emergenza sanitaria è finita, utilizziamo le restrizioni solo se ci sono casi particolari, i cosiddetti soggetti fragili, ma per il resto torniamo alla normalità. Qualche dirigente, qualche insegnante invece pensa di essere ancora nell'emergenza sanitaria e quindi vanno avanti come se il mondo fosse fermo al marzo 2020 o qualcosa del genere. Ecco, questi dirigenti, questi insegnanti vanno richiamati al senso della scuola. La scuola non è un ospedale, non è una clinica da campo, la scuola è il volto e senza il volto non c'è scuola. Abbiamo vissuto due anni terribili dove gli alunni sono stati anche male, dove ci sono stati, l'altro giorno ero a Napoli al convegno di una delle più importanti associazioni pediatriche italiane e proprio lì si diceva che un adolescente su cinque ha un disturbo psichiatrico in questo momento. Il 20% degli adolescenti soffre psichiatricamente di qualcosa. Sono dati spaventosi, vuol dire che questi due anni non ci lasciano un deposito virale, come pretende qualcuno, ma un drammatico deposito autolesivo, lesivo, specialmente sul piano psicologico, psicoevolutivo, molto drammatico e ricoperare ci vuole del tempo. La scuola è il luogo precipuo dove si può ricoperare, dove finalmente i ragazzi si vedono, lavorano assieme, collaborano. Ecco, il ritorno di una scuola collaborativa. Quindi mi appello a questi dirigenti riluttanti, refrattari. Ecco, attenzione, non giochiamo col fuoco, non siamo in Cina. Ecco, professore, lei dopo due anni è tornata anche il compagno di banco. Lei ha sempre sottolineato l'importanza dell'educazione tra i pari, cioè che i ragazzi imparano tra i loro compagni. Ecco, quanto è importante questa figura del compagno di banco? Ma non solo imparano dai loro compagni, imparano in via prioritaria dei compagni e a volte in via esclusiva. Cioè, la scuola come comunità è la comunità, anzitutto, degli alunni. Il ruolo dell'insegnante è un ruolo di regia, cioè predispone le esperienze di apprendimento, ma le esperienze le fanno gli alunni. Se a scuola parla l'insegnante e gli alunni devono solo ascoltare, questa non è scuola, è un uditorio. Un auditorio, non so, chiamiamolo, però non c'entra con la scuola. La scuola è dove si vivono esperienze concrete di apprendimento, dove anche si utilizza il territorio per le esperienze di apprendimento, dove i libri possono essere un segmento di questo processo di apprendimento, ma non la componente principale e prioritaria. Però purtroppo ci troviamo libri sempre più massicci. Recentemente, frequentando una scuola, vedo un libro antologico di letteratura italiana, mi sembra per la seconda o la terza media, uso ancora questa terminologia del vecchio stampo, per dire che questo libro aveva, ha, libro di introduzione, 762 pagine. Ma come si fa? Ma qual è quel ragazzino in seconda o terza media che può reggere un carico anche mentale e psicologico del genere? Ecco, a scuola bisogna vivere concretamente nella reciprocità, nell'imitazione con i compagni, altro che il non copiare. Ma cosa vuol dire non copiare? Dobbiamo collaborare, collaborare, perché si impara. Cioè, il sistema neurocelebrale dei ragazzi è più favorevole all'osmosi dell'apprendimento. In questi giorni di inizio scuola, gli insegnanti devono costruire questo clima, clima di collaborazione, clima di accoglienza, clima dove si respira la voglia anche di stare assieme e non che vengano inquadrati nei banchi. Ecco, è salutare che le restrizioni siano finite. Io spero che veramente non ci siano resistenze, perché fa male ai bambini, fa male alle bambine, ai ragazzi, fa male. Quindi poi non vengono a scuola volentieri e poi si creano gli inceppamenti che tutti conosciamo. Ecco, a tal proposito, noi parliamo spesso di comunità di apprendimento e di collaborazione. Voi, per queste circostanze, il 22 ottobre avete organizzato un vero e proprio convegno nazionale, molto importante, in cui si parla proprio di che nessuno, dal titolo, nessuno si è legato da solo a costruire una comunità per crescere insieme. Qual è l'obiettivo di questo vostro convegno? L'obiettivo è uscire dall'effetto nicchia, cioè dall'idea che la scuola sia un problema per i tecnici della scuola, che la famiglia sia un problema, che l'educazione dei figli sia un problema dei genitori, che l'educazione sportiva sia un problema degli allenatori. C'è tutto segmentato, nicchia per nicchia, nicchia in genere che non comunicano neanche. No, non è questo ciò che desideriamo, ma appunto costruire un immaginario condiviso dove il processo, come dire, formativo delle nuove generazioni, sempre meno peraltro, perché è chiaro che nel momento in cui si crea una sorta di trascuratezza, anche i genitori smettono di fare figli. Ecco, nel momento in cui si crea questo immaginario, la società si assume una responsabilità comune. Allora vuol dire che i centri estivi diventano un problema della società, non una quota da pagare per i genitori. Ci sono genitori che quest'estate per tenere i figli ai centri estivi, magari ne avevano due o tre, hanno speso duemila, tremila euro. È inimmaginabile, è molto importante che ci sia un approccio condiviso, che i genitori siano sostenuti a livello sociale, politico. Io ho sempre chiesto un bonus pedagogico per i genitori, tanto per dirne uno. Dobbiamo aprire le scuole al territorio, alla sera, le scuole diventino un luogo di incontro per le iniziative culturali, artistiche, sociali, politiche. Ecco, non questa sorta di fortezza scolastica, il fortino scolastico, dove in questi due anni abbiamo consumato il rito delle quarantene. Ecco, poi ci dimenticheremo, per fortuna dico io, però ricordiamoci anche la sofferenza di questi due anni per fare meglio, per uscire. Quindi tutta la società è un territorio educativo. Tutti noi abbiamo bisogno di fare squadra. I figli non si erucono solo con i genitori, non si erucono solo con un nido, con una squadra dell'infanzia, ma con una condivisione che appartiene a un'assunzione comune della crescita delle nuove generazioni. Oggi i genitori sono troppo da soli in questo, troppo. Il loro punto di riferimento sono diventati i blog mamma, le mamme che si mettono sui blog a dare consigli a destra e a sinistra. Anche questo è simpatico, per carità, la ferragna è fra queste, ma non può funzionare, perché c'è bisogno di un background scientifico attendibile, credibile, ma c'è bisogno anche che tutta la società si senta partecipe della scuola, per esempio. Pensiamo agli stipendi degli insegnanti, ha senso che siano i più bassi d'Europa? A che pro? Ha senso che i più bassi in assoluto siano quelli del nido e della scuola dell'infanzia, che è una responsabilità enorme occuparsi di bambini piccoli, perché sul piano della costruzione della personalità, quello che un bambino assorbe tra un anno e sei anni ti resta per tutta la vita. Se poi al liceo trovi un insegnante che non ti sa spiegare bene Kant o Marx o Hegel o Feuerbach, ma che problema è? Non l'avrai imparato adeguatamente, te ne farai una ragione, ti rimboccherai le maniche e lo studierai per conto tuo se ti interessa, ma quello che ti succede nei primi sei anni di vita è quasi irreparabile, per cui non ha senso che ci siano degli stipendi incredibilmente miserevoli proprio nella fascia di età più sensibile e delicata, 0-6 anni, come se chiunque potesse occuparsi dei bambini piccoli. Allora quello che manca è uno sguardo attento, uno sguardo pieno di attenzione collettiva su questa vicenda della scuola, dei figli, dei genitori, dello sport anche. Oggi lo sport è fondamentale perché in un periodo in cui ci sono poche occasioni, lo sport ha bisogno anche di formatori, non solo di allenatori, bisogno di questo anche apporto pedagogico sostanziale. Quindi nel convegno abbiamo aperto proprio ai tanti esperti di tanti settori, ci sono attori come Carlotta Natoli, Giacomo Poretti, grandi psicologhe e psicanaliste come Silvia Veggetti Finzi, Laura Pigozzi, un grande esperto di problematiche sportive, come l'attuale sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che è stato un calciatore che tutti abbiamo amato anche per la sua generosità, diciamo così, e una grande scrittrice come Susanna Tamaro, che ci ricorderà come non è mettendo etichette ai bambini e ai ragazzi che risolviamo i deficit educativi. Ne abbiamo parlato tanto, anche in orizzonte scuola, però la caccia al disturbo neuropsichiatrico è ricominciata. Dobbiamo accettare che a scuola ci siano i bambini difficili, dobbiamo accettare l'immaturità infantile e adolescenziale, ma saper mettere in campo una comunità educante. La comunità educante. Ecco, io auspico il ritorno della pedagogia a scuola, auspico che i genitori siano aiutati sul piano educativo e non lasciati soli, auspico che ci sia, si crei così un immaginario dove tutti ci sentiamo genitori delle nuove generazioni, non solo quelli biologici. Ecco, professore, lei stava parlando di educare i bambini a stare bene. A tal proposito sta scendo tra poco uscire anche un suo libro, proprio su questo accolmento, che si intitola La manutenzione dei tassi dolenti e come riconoscere e gestire per stare bene con se stessi e gli altri. Ci dici un po' di più su questo argomento? Sì, ecco, è un libro a cui tengo tantissimo, più di vent'anni che lavoro sui tassi dolenti, ecco che è un costrutto, diciamo così, che ci permette di capire come le difficoltà, le ferite anche, che abbiamo subito durante l'infanzia si riverberano ulteriormente durante il resto della vita, diventando dei blocchi, a volte dei macigni, ma che chi chiamo tasti dolenti? Ossia, improvvisamente ci troviamo in un conflitto con gli altri, conflitto di coppia, conflitto magari col figlio adolescente, conflitto sul lavoro, contrarietà relazionali, ecco, improvvisamente ci dicono una frase che ci fa star male. Caramba che sorpresa! Quella frase proviene dritta dritta dalla tua infanzia, era qualcosa che ti dicevano in un modo o nell'altro, ed ecco che, come dire, i fantasmi dell'infanzia non sufficientemente integrati, elaborati, si ritorgono contro di te e ti fanno star male. Allora il libro è veramente una grande occasione, anche operativa, perché è un po' un libro laboratorio, diciamo così, perché il mio scopo è sempre quello di far imparare, un libro laboratorio dove si impara da un lato a riconoscerli, ecco, qual è il tuo tasto dolente, qual è, no? Quel tipo, quel quid per cui se lo vedi ricomparire in una situazione relazionale o di gruppo, scatti, diventi o furibondo oppure ti ritiri come una tartaruga, comunque hai delle reazioni che non sono pertinenti, non sono adeguate. Allora ecco, ti aiuto in questo libro a trovare una nuova possibilità e quindi ci sono proprio indicazioni operative, molto molto pratiche, però il primo passo è ognuno deve sapere riconoscere qual è il suo tasto dolente, cioè quella ferita ancora aperta con la sua infanzia che si riverbera nelle relazioni sociali, specialmente quando ci sono i conflitti. Fatta questa operazione poi si può davvero imparare a gestire le complicazioni dell'esistenza e specialmente è un grande, enorme antidoto alla violenza, ecco perché la violenza poi nasce dall'incapacità di affrontare le contrarietà della vita. Ecco, alcuni aspetti di quello che lei ci ha raccontato, ve lo tratterete anche nel vostro convegno, che è molto corposo e ci sono tanti interventi. Uno degli interventi che mi ha colpito è l'eccesso di plus materno e il bisogno di comunità. Cosa vuol dire questo argomento? È quello che dicevo prima, nella mancanza di uno spazio condiviso a livello educativo, emergono queste figure delle cosiddette supermamme, e che appunto la psicanalista Laura Pigozzi definisce il plus materno. C'è una ridondanza, un'incombenza da un lato di iperprotezione, ma più che altro di ipercontrollo sulla vita dei figli da parte di queste figure che pretendono di essere esclusive nella crescita appunto dei loro figli e figlie. Quindi figure che lasciano senza fiato da un punto di vista tecnico, pedagogico, psicoevolutivo, ma sempre più presenti. Ecco, nel fai da te generalizzato, una delle figure che si presenta sul piano educativo, anche questa, la supermamma, la mamma plus materna, a volte che condivide tutto questo ovviamente anche col padre, ma che sta soffocando la vita dei suoi figli, e che impedisce la collocazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi, in un processo di condivisione sociale, in un processo di comunità educante. Ecco, cioè non possiamo, nessuno, lo scriviamo, nessuno si educa da solo, ma nessuno può permettersi di avere l'esclusività sull'educazione di qualcun altro, anche quando questo qualcun altro è tuo figlio, tua figlia. No, è sempre un progetto comune, questo bellissimo, cioè liberatorio, non è un'incommenza tutta tua, cara supermamma. Ecco, fai un passo indietro, vedrai che nello scoprire una comunità più ampia, anche tuo figlio, tua figlia, starà meglio e ti sarà riconoscente per aver cambiato questa tua ossessione esclusiva sui figli stessi. Ecco, lei parla sempre di comunità, ha detto anche prima di come dovrebbe esserci un disegno comune tra i vari ambiti, quindi scuola, famiglia, anche diciamo all'istruttore dello sport per dare un unico segnale bambino e non lanciare segnali contraddittori. Tra questi argomenti, uno su cui lei batte spesso è quella della scuola delle crocette che non fa comunità. Perché non fa comunità la scuola delle crocette? La scuola delle crocette è la scuola delle risposte esatte, ma le risposte esatte non producono necessariamente apprendimento. Allora, ribadisco, nel mio metodo, appunto il metodo maieutico, si parte dal presupposto che la scuola deve valutare perché è una restituzione legittima nei confronti degli alunni. L'alunno deve capire cosa sta imparando, quindi la valutazione è importantissima. Ma quale valutazione? Ecco, il controllo degli errori, come si sta facendo adesso, specialmente con le prove invalsi. Il controllo degli errori è la scuola delle crocette, che è il metodo più semplice e più banale. Se hai messo le crocette al posto giusto, vai bene. Se l'hai messo al posto sbagliato, no. Ecco, questa è la scuola che produce la dispersione scolastica e produce un paese dove ci sono pochissimi laureati e dove andare a scuola sta diventando difficile, anche sul piano motivazionale. Io viceversa, nel mio metodo, dico una cosa molto semplice, molto banale, ma estremamente scientifica. Bisogna valutare i progressi, ossia partire dai punti di partenza di un alunno e vedere com'è andato avanti. Se un bambino, una bambina, in prima elementare arriva, che sa già leggere, sa già scrivere magari il suo nome e cognome in stampatello, sa contare fino a 100, noi dobbiamo valutare com'è andato avanti, non se gli altri l'hanno raggiunto. come se fosse una gara, la gara a raggiungere il più bravo. No, il più bravo deve continuare nel suo percorso, perché i suoi punti di partenza sono quelli, e gli altri hanno altri punti di partenza, quindi valuteremo i loro progressi. Quindi è fondamentale in questi giorni l'inizio a scuola, che gli insegnanti capiscono qual è l'inizio, l'incipit dell'alunno su cui puoi costruire la valutazione, perché questo rafforza l'autostima. E mai valutare sugli errori, perché gli errori accomodati, ossia progressivamente gli alunni migliorano. Ed è questo miglioramento che la scuola registra nella sua valutazione. Finché si continuerà a valutare, a partire dal controllo degli errori, la scuola resta lì, al palo. Ecco, resta una scuola che mortifica, mortifica e non implementa le capacità straordinarie, enormi. Ma, come dire, il materiale neurocelebrale di un preadolescente e di un adolescente è favoloso. Dobbiamo svilupparlo, non castigarlo continuando a stigmatizzare gli inceppamenti. Ecco, quindi io auspico che ci sia questo tipo di cambiamento. In parte anche il Ministero ha parlato di valutazione formativa. io, mai oltre, valutazione evolutiva, valutare i progressi, solo quello. Non occuparsi degli errori. Sono inevitabili gli errori. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Lei appunto diceva di come oggi la scuola nella maggior parte dei casi è improntata sulla domanda che prevede già una risposta di cui l'insegnante si attende una risposta di un certo tipo. a volte addirittura si pretende che venga ripetuto tal quale quello che è scritto sul libro o quello che ha dettato l'insegnante senza neanche lasciare spazio di interpretazione al ragazzo. Voi invece nel vostro metodo maierutico parlate di domanda maierutico. Una domanda che non prevede una risposta ma che prevede tanti modi, tanti approcci a secondo proprio di come il ragazzo rielabora l'informazione e le tira fuori. Ci danno qualche consiglio in chiusura? Cioè la domanda genera apprendimento. Io vorrei capire vorrei capire su che base tutto questo accadimento a voler andare su Marte. Bene, questa è una domanda. Abbiamo bisogno di andare su Marte? A cosa ci serve andare su Marte? cosa si potrebbe trovare su Marte? Cosa stiamo cercando su Marte? Ecco queste sono domande che generano apprendimento perché se noi studiamo i motivi per cui stiamo ossessionandoci su questa necessità ecco che mettiamo insieme problemi di scienze no? Problemi di fisica problemi matematici problemi anche di letteratura e Marte come dire ha generato tanta tanta letteratura fantascientifica per esempio che comunque è un filone estremamente interessante ma magari non solo quella ci occuperemo di attualità ci occuperemo di informatica per forza di cose ci occuperemo di biologia umana riuscirà mai un essere umano a mettere i piedi su Marte e quali sono i problemi ma è straordinario ecco che allora è la domanda che genera una moltiplicità di apprendimenti anche disciplinari ma sulla base di una ricerca di una problematizzazione dove costruiamo un laboratorio dove facciamo fare ai nostri ragazzi un'esperienza per esempio intervistare un astronauta diciamo oppure ascoltare la Cristoforetti che ci parla della vita nello spazio eccezionale ecco questo è anche un modo per utilizzare la tecnologia a scuola senza farsene soffocare ecco una lima ti permette di vedere tanti video filmati importantissimi ecco quindi la domanda non c'è una necessità di avere la risposta esatta questa è la scuola del quiz scuola delle crocette no attraverso esperienze laboratori ricerche esplorazioni che partono da queste domande vi ho fatto un esempio ecco che si libera no si libera il gusto la voglia la passione la passione per per imparare vorrei chiudere ricordando proprio il mio ultimo libro la manutenzione dei tasti dolenti nell'introduzione metto ad epigrafe ho ritrovato non sapevo che esistesse una lettera di Freud a Maria Montessori Sigmund Freud Maria Montessori e io adesso vado così a memoria Freud a un certo punto in questa lettera dice Maria Montessori se si seguissero dice alla Montessori i suoi dettami pedagogici gran parte o quasi tutti noi psicanalisti non avremmo più nulla da fare non so se mi spiego una dichiarazione incredibile incredibile che non conoscevo devo dire la lettura del libro vale solo per questo ritrovamento meraviglioso direi perché è così cioè se tu costruisci una buona educazione per i tuoi figli una scuola dove veramente si impara stando assieme e si collabora si sviluppano esperienze è logico che non avrai poi bisogno degli psicoterapeuti dei neuropsichiatri infantili o quant'altro se non ovviamente come supporto che come dire la terapia non si stuiterà mai questo bisogno bisogno di imparare di crescere ecco perché alla base i processi educativi sono sempre quelli prioritari saper fare le mosse giuste ecco secondo me lavorare per una scuola che sa valutare i progressi piuttosto che controllare gli errori è la vera rivoluzione che permette di ritrovare una scuola amorevole ma anche una scuola che sa far crescere ecco che non rinuncia mai alla fatica perché comunque quando una scuola è interessante è anche faticosa certo ma la scuola ripetitiva no? come diceva lei non è né faticosa né interessante perché per ripetere quattro stupidaggini è per i pigri la scuola ripetitiva la scuola delle crocette è per gli indolenti per i refrattari la vera scuola è quella che ti riempie la vita con domande sorprese curiosità no? esperienze inedite e la voglia di aprire sempre nuovi cassetti di apprendimento e di conoscenza grazie professor Domara per essere stato con noi grazie un caro saluto grazie grazie grazie